Musica C'è? Non c'è? Odore? Ma che è? Mamma mia, se di te ero stima andata male Senti Da me, sembra diverso Vai, le gommi, gommi Gommosa Sale di limone Però, sore, è meglio evitarlo, sale di detestivo veramente Però non lo sento tanto questo limone, sore Non sente tanto Che a me piace proprio il limone, però questo è buono Ma la me la molto Molto carina E' un'altra Molto carina Anche a forma di Sore Spicchio di limone Aspetta di limone, anzi E voglio capire un attimino Dunque, sorella Caramelline al limone Sono... cioè, il limone a me lo piace Però queste Però queste sono davvero Buone E ci piacciono E ci piacciono Questo non lo proverai perché questo andrà direttamente per un giveaway Quindi rimanete sul canale Rimanete sul canale Per il giveaway Delle davvero Delle biscotte Delle biscotte Biscotto Delle biscotte Ginvis Oddio, allora Donuts biscuit Donuts biscuit Biscetto 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 C'è il disegno che c'è qui Dai Dai l'arte Vai apri L'arte del... Non c'è carmi il cane No, io romperai Esatto Tu non lo romperai perché lo taglierai Ecco, bravo Perché le bustine giapponesi sono ben sigillate Ma si chiedate da morire Attenzione 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 Esce aria Oddio, non vedo l'ora di odorarle Sembrano invitantissime Oh, cosa? Che carine Ma mi senti l'odore Ho sentito Burro Che carine Biscotti al burro danesi Sono semplici biscottini Biscotti al burro danesi Vedi, facci caso Zuccherati Sono molto apriabili E sono ovviamente per i bambini Zuccherati Mini 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 No per me Poi usiamolo No per me Rispecchiano veramente la bontà dell'immagine Praticamente Quindi sarò là Un voto in assoluto C'è mille Ci piace Ci piace Su mille Ok, il primo c'è deluso Ma questi però ci stanno veramente Uh, molto Già sta Ora beviamo È freddo È freddo Ok, sì Per essere stato un mese fuori È freddo La mattina limonata La mattina limonata E sono delle semplici appostine così Che sembra gassosa Uh Mè, c'è Tori Che cosa è? Che cosa neanche accade? Gritto Mangia Vivi No, non leggo Vivi Non leggiamo Non leggiamo Non ne ha leggiamo Ah, yeah Remo di yogurt Aspetta, vediamo se è scaduto Ah, ma rimuri Eh, tu Non leggi nel manga, no? Non puoi leggere il manga sotto Sono morta 2016 Sono morta Hai visto che Sono piet Sta di piet Sì, perché effettivamente Tra il caldo e il freddo Che ha passato Sì, è un attimino Sì, è un attimino Mescolato il tutto Capito? Ci sono sia pezzi Che Liquidoni Liquidoni Ah, no, è no Chiudi 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 e butta Chiudi E butta È morto È morto Ci piace, sorella Ci piace Nooo È niente È robio Andiamo avanti Ci ha rimasto l'attimino Un po' spossate Un po' mangiustate il prossimo biscottone è questo oddio, fammi leggere adesso soy joey soy joey oh è morbidino e sembra che ci sia mi...mikus...berry miusberry fragolona non scherzarlo ecco ma potremmo farla prima ok, guardate un po' è come il frisino che feci io quando cucinai oh strawberry, ecco subito subito alla riscosse abbiamo detto i coglioni che sta soy joey crispy sai di barretta fitness andata ahahah comunque questo è rimasta con un smoke è un po' se ne dico è un po' giorni passati i giorni passati ma no che stifo un po' giorni passati questo è più carino neanche l'hai fatto vedere no? sei proprio un idiota è un marshmallow a ciocoretto dai questo è più carino penso non è più carino è pure la mia axel un po' un po' un po' un po' cioccolato vero? はい cioccolato cioccolato un macho cioccolato ceca una gombina di pokemon perchè di pokemon se sta disegnato un pokemon e pikachu nooo allora pokemon e pikachu questo è l'hashtag pikachu gumi capito pikachu gumi è come cinesi è come cinesi è come cinese è liscio è liscio e piatto ok ci vi sono liscio e piatto allora sembra una barretta un'imitazione della barretta kinder sono pure la sorpresa qua oh my god praticamente cos'era questo bigliettino gioca e vinci gioca e perdi tipo come kinder bueno potevi vincere chissà cosa in giappone ovviamente un viaggio in giappone tipo e noi in diretta ragazzi in diretta questo è bello della diretta in diretta live in diretta live intanto ho ancora la gomma perchè è veramente molto morbidina e azzurè troppo sono allergica a queste gomme azzurè hai perso ci dispiace ci dispiace pure ritenta ingoiata la gomma ci piace goiata al 100% guardate guardate noi quindi abbiamo finito speriamo che il video vi sia piaciuto iscriveteci nei commenti qui in basso se vi è piaciuto andate a comprare questa bella box mettete un like ciao belli ciao seguiteci su facebook e su instagram ciao 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 ciao